Sono sempre di più le modelle ma anche le attrici che diventano famose di guadagnare una certa visibilità e addirittura dei clienti a livello economico grazie ai diversi social network presenti nel web. Tutto ciò succede nei paesi occidentali ma in quei orientali di solito no perché vige una sorta di pura censura anche in alcuni paesi islamici in cui per l'appunto ci sarebbe questa situazione. Si chiama Sadhaf Tahirian, è un'attrice iraniana e pensa a qualcosa, i suoi foto infatti, pubblicati Facebook ed Instagram, hanno stroncato la sua carriera. Sadhaf ha posato senza diabo, che è vero che le donne rinandivano per forza di cosa indossare in pubblico e ciò non è andato giù alle autorità di Tehran. Il ministro della cultura islamica ha deciso di sospendere lo show televisivo in cui lei cita la bella Sadhaf, oltre all'avvio di un'indagine interna che porterà a sanzioni più che dure nei suoi confronti. Dunque è una sanzione che arriva in qualsiasi visione che purtroppo si appare di racconto. Adesso Sadhaf senza più un lavoro teme anche per la propria incolumità, molti uomini musulmani intransigenti, la minaccia in modo costante di morte nei social network e per questo motivo l'attrice ha preso una disegnione molto sofferta e dolorosa, ma anche necessaria, quella di trasferirsi nei più miti e aperti emidati arabi uniti, un paese che si trova il meglio volente. Vi ringrazio per il gentile ascolto cari utenti di youtube, il video termina, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia, di questa vicenda, come vedete come l'ascoltato a volte la carina può essere stroncata veramente per uno o nulla, sia non solo da voi tutti.